Una due giorni intensa e soprattutto formativa quella che ha coinvolto l'Istituto Comprensivo di Coli a Volturno, il Comune di Coli a Volturno e i plessi di Montaquila e Monteroduni. Gli incontri sulla sismicità dell'area della Valle del Volturno, tenuti dal ricercatore geofisico dell'Assofratorio Vesuviano, sezione di Napoli, degli NGV, professor Giravamo Milano, hanno letteralmente accattivato e stregato le centinaia di persone e studenti partecipanti prima nella doppia giornata collise e poi all'interno del maniero storico Pignatelli di Monteroduni. Obiettivo fondamentale è quello di istruire alla sicurezza e soprattutto ai comportamenti adeguati da seguire in caso di evento sismico. La prima educazione parte all'interno dell'ambiente scolastico per poi spostarsi nella vita quotidiana. L'elemento essenziale, ribadito più volte dal geofisico Girolamo Milano, è quello della conoscenza del territorio dove si abita e si vive ogni giorno. Nelle interviste la dirigente scolastica Ilaria Licci ed il sindaco di Monteroduni, custode russo. La sicurezza è messa al primo posto e non solo nella scuola, sono felice di aver verificato in entrambi gli istituti anche dai comuni. Nella scuola i docenti tutti impartiscono delle informazioni ovviamente inerenti all'evacuazione dall'istituto e tutto il problema del terremoto ma anche dell'incendio o comunque di una problematica che possa richiedere l'evacuazione. Ci sono delle prove di evacuazione che vengono fatte periodicamente, alcune anche alla mia presenza e del responsabile della sicurezza l'ingegnere Montaquila che è lo stesso in entrambi gli istituti e altri invece informali che vengono periodicamente fatti dalle docenti. Questo al fine di far abituare i ragazzini in una situazione ovviamente di tranquillità quindi senza ansia, preoccupazione o panico a quello che devono poi diventare automaticamente delle azioni da compiere in caso di evacuazione. Io personalmente come dirigente scolastico per tutte le responsabilità che mi incombono ma anche tutti i genitori veramente possiamo essere sereni perché su tutto il territorio di entrambi gli istituti abbiamo edifici a norma o comunque se non nuovi ristrutturati in maniera tale da rispettare i nuovi criteri antisismici e quindi questo ci fa andare a scuola tutti serenamente e ovviamente ci fa compiere il nostro dovere meglio. Custode Russo, sindaco di Monteroduni, si è appena concluso un ciclo di incontri e seminari riguardanti la sismicità del territorio, il suo comune e la sua amministrazione comunale come si è organizzato e soprattutto come sta operando in questo settore e per quel che riguarda la sicurezza scolastica? Noi siamo stati promotori della sicurezza anche scolastica ma non solo, in tempi non sospetti, tanto è vero questo che abbiamo realizzato l'edificio antisismico adeguato alle normative vigenti in tempi record, quindi abbiamo messo in sicurezza i nostri bambini per dare tranquillità ai genitori, per dare tranquillità a tutto il territorio. Certo è che questo di oggi, questo convegno è stato un po' l'epilogo, è stata la cilicina sulla torta perché ha dato ai bambini forse quel quid in più che gli mancava. Il professore che ha tenuto lezione a questo convegno credo che sia stato eccezionalmente bravo perché ha trasmesso ai bambini con concetti semplici quello che bisogna fare in caso di calamità della natura.